Buonasera a tutte e a tutti, siamo davvero molto felici di tornare a Gardone. Lasciatemi dire, io l'ho già ripetuto altre volte, che ci sentiamo accolti, ci sentiamo quasi a casa anche se veniamo da lontano, si fa per dire da orzi nuovi, da Villa Chiara. Siete una comunità molto bella, molto viva, molto unita. Un esempio direi oggi si parlava, lo diceva poco prima l'assessore Giacomelli, a cui rivolgo il mio saluto, il mio ringraziamento a lei e a tutta l'amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale ad una persona che io stimo tantissimo, è un amico ma è una persona di grande rilevatura che avete avuto la fortuna di accogliere qui a Gardone, che è il dottor Stefano Ottobri. Rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento naturalmente anche al presidente della comunità montana Ottelli, all'assessore Yvonne Balcamonico che non è presente, alla dottoressa Lucchini che invece è presente, alla dottoressa Podestini che invece non è qui con noi. Don Piero è davvero amico del festival, è uno dei sacerdoti amici. Devo dire Emilia che abbiamo avuto tanti sacerdoti che sono stati molto carini, molto gentili, che sono a fianco della manifestazione, che non hanno esitato a spalancare le porte delle chiese qualora ve ne fosse la necessità. Questo anche per dire che si tratta di un progetto, come già dicevi molto bene tu, che coinvolge una serie di partner. Emilia prima diceva, mi permetto di ricordarlo, questa è l'ultima settimana. Siamo un po' stanchi ma molto felici. L'ultima settimana di un festival che ha la 17esima edizione, che è partito da Brescia il 10 di giugno, ha attraversato i tre capoluoghi di provincia e 22 municipalità. Domani saremo ancora vicino a voi per una serata di filosofia a tavola lumezzane e poi ritorniamo, se ce lo consentite, vicino dalle nostre parti, nella bassa Lograto a Villa Morando con Maria Rita Parsi. In quell'occasione verrà anche data come nostra consuetudine e tradizione consegnata, diciamo così, svelata la parola chiave della 18esima edizione del festival. Un grande saluto e un saluto molto grato, lo voglio rivolgere a Monsignor e Professore Pierangelo Sequeri che è alla sua prima volta, speriamo, l'inizio di una serie al Festival Filosofi Lungologlio, una figura conosciutissima, amata, studiata, una figura che costituisce uno di quei fari di saggezza, saggezza cristiana di cui tutti noi abbiamo a che fare, soprattutto in questa società, vi permetto di ripeterlo, guardate se c'è un modo per misurare quali sono le tonalità affettive, gli stati d'animo di una società, ecco sapete uno di quelli è il festival che funge da cassa di risonanza e allora di relatore in relatrice ci si accorge che tornano delle parole, che c'è troppo io e c'è troppo poco noi, c'è il crollo del noi di cui parlava Monsignor Paglia proprio in questa sede qualche anno fa, che c'è molta solitudine, che si vive molto nel virtuale e molto poco nel reale, che c'è un'indifferenza che rasenta quasi la vergogna, eppure ci sono tantissime anime belle che dicono sì è vero, ma poi nella pratica, nella concretezza, fanno come quel sacerdote levita che davanti alla persona che stava a terra e che venne soccorsa dal buon samaritano tirò dritto, ecco il rischio è di tirare dritto quando c'è l'altro che soffre, che ti chiama, che ti invoca, per richiamare il gioco di parole, è una delle espressioni che Emanuele Levinas più volte ha usato per esprimere questa importanza dell'altro e che anche il mio maestro, che è scomparso e voglio ricordarlo, se mi permettete anche insieme a voi, l'otto giugno scorso, ecco lui continuava a ripetere, non lasciare altri da solo, non lasciare altri morire da solo, ecco preghiamo insieme l'uno per l'altra, le nostre telefonate si concludevano sempre così, finché purtroppo è arrivato il momento del penultimo saluto, è arrivato quella di, che però significa anche un andare verso la casa del padre, dove sicuramente il mio maestro si trova. Il professor Sequeri è preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, è stato ordinato sacerdote nel 68, compiuto studi musicali e di filosofia ottenendo il dottorato in teologia nel 72, è stato educatore, docente di filosofia e teologia nel seminario maggiore di Milano, dottore musicologo della biblioteca amplusiana, già preside della facoltà teologica dell'Italia settentrionale a Milano, dove è professore ordinario di teologia fondamentale e anche membro ordinario di molte commissioni, è editorialista di Avvenire, collabora con l'osservatore romano, conferenziere di fama internazionale e autore di una sterminata bibliografia, ricordo solo alcuni titoli, il dio fabile, saggio di teologia fondamentale, il sensibile, l'inatteso, lezioni di estetica teologica, la cruna dell'ego, uscire dal monoteismo di sé, il timore di Dio, deontologia del fondamento, la fede e la giustizia degli affetti, teologia fondamentale della forma cristiana, lo sguardo oltre la mascherina, Charles de Foucault, il Vangelo viene da Nazareth. Bene, buona serata a tutti e grazie molte a sua eccellenza. Ecco, poverina, lei quasi si strangola a dire tutte le notizie, ma invece ormai io sono in merito di tutto, quindi sono memorie che mi dà invece conforto il fatto che forse voi volete invitarmi ancora, e questo allunga un po' la mia vita almeno, perché queste sono tutte cose che ormai fanno parte del passato. Bene, il tema sul quale avete chiesto questo intervento è un tema molto intrigante, ma anche molto arrotolato. Vi spiego in una battuta perché. Perché gli elementi di questa figura, l'io, che ci fanno problema, perché ci sono, non sono tutte rose e fiori, no? Pensate, per l'adolescenza l'io è un dramma indiretta, è il dramma dell'adolescenza, tanto per di ne uno, ma anche per due che si mettono insieme. Ma fino a qualche tempo fa i problemi dell'io potevamo chiamarli con dei nomi negativi. Dicevamo egoismo, egoismo, era la parte cattiva, quando c'era una parte cattiva diciamo egoismo, egoismo. I più colti dicevano, o i professionisti della cura dicevano narcisismo, uno che si specchia in se stesso. Ecco, una parte dell'io cattiva. Insomma, ne avevamo un po' di nomi o di perifrasi di frasi per dire le parti negative. Questo ti aiuta perché, tu lo sai bene, quando sai le parole, becchi anche la realtà. Cioè, una figurina, un'etichetta, così fronteggi la realtà. Quando non sai la parola, bambino, il suo problema è questo, no? Dice che cosa è questo, che cosa è questo. Perché per fronteggiarlo deve avere un nome. Ecco, la situazione attuale invece si è sviluppata verso la normalizzazione dei lati, come dire, problematici dell'io. Molti lati problematici dell'io che fino a ieri erano nominati negativamente, piano, 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 astutamente, hanno incominciato ad essere assorbiti nella lingua normale. Diciamo cura di sé. Apparentemente, cosa c'è di male nella cura di sé, no? Cura di sé è vuoi non curarti di te. Anzi, questa figura ha riscosso un tale entusiasmo che adesso, appunto, la cura è diventata una parola pregiata per dipingere ogni tipo di rapporto. La gente non ci riflette, ma questo è il segno di un trionfo della psichiatria. Non ho niente contro la psichiatria, ma qui viene a trionfare sul nostro terreno. Un trionfo della medicalizzazione. Perché quando dici cura, invece di dire educazione, formazione, apprendimento, cioè invece di dare i nomi alle cose che devi fare per l'io, che sono cose molto precise, molto differenti, c'è una bella ricchezza, no? L'io merita educazione, ma anche formazione, ma anche istruzione, non è la stessa cosa. Ma anche normatività, imparare le regole, non soltanto le parole. Adesso tu dici cura, la cosa assume una vaga intonazione materna che ti intenerisce, ti consola, e se anche poi non impara niente, fa niente. L'importante è prendersi cura. E lo so. L'importante è prendersi cura, ma io vado a scuola e mi danno in quattro per cercare di trasferire delle cose buone, dei nomi che lui non sa. Allora, un conto è che io lo faccia in modo burocratico e indifferente, ma non è un lavoro che posso sostituire con la cura. Non è che dice, beh, vabbè, se non impara pazienza, l'importante è prendersi cura di lui. Eh, tesoro, allora lo tengo a casa, perché è già la sua mamma che si prende cura di lui, no? Un po' di tempo fa andava... Mi servo di queste battute per, capito, per introdurvi nell'argomento in modo, spero, non pesante, in modo che così becchiamo questa ambivalenza che mi sta a cuore di segnalarvi, perché, come dicevo a loro, ci aiuta a capire questa cosa, che qui il problema dell'io non è un avversario che abbiamo di fronte. Tanto perché l'io siamo noi. E poi anche perché i suoi problemi non stanno più di fronte. Si sono mescolati con le sue cure, le attenzioni che richiede, con il lavoro che deve essere fatto. Dicevo, qualche tempo fa andava di moda, adesso vedo che è un po' sparita, meno male, una cosa che mi faceva molto irritare, e cioè andava di moda tra i professori, per mostrarsi democratici, di dire ah, io è molto di più quello che imparo dai miei allievi che non quello che gli insegno. Beh, allora paga il ragazzo invece di te, scusa. chiedete lo stipendio per i vostri figli, perché se questo qui viene pagato per imparare a sua volta, quindi ci guadagna due volte, non so perché li mandate a scuola. Ecco, ma per dirvi, la frase in sé è anche carina per dire do valore al rapporto, perché la scuola è un rapporto, è un'interazione. se non hai dei ragazzi che interagiscono, il tuo lavoro certo va a finire in niente, è vero, è vero, però non esageriamo. Ma in questa esagerazione c'era già un sintomo di questo ruotare dell'attenzione nei confronti dell'io, che a poco a poco cerca di neutralizzare i suoi problemi trasformandoli, rivestendoli di qualità positive. E questo ti mette in difficoltà. Perché ti mette in difficoltà? Perché se devi combattere i difetti dell'io, i limiti, i danni per il bene appunto della persona e non riesci a identificarli, ne sei vittima inconsapevole. All'estremo, ho detto una battuta che riguarda il lavoro della scuola, no? Alla quale io allora ero giovane, adesso sono vecchio, sono più democristiano, insomma, ma allora invece ero giovane un po' puntuto e dicevo agli studenti. Incominciavo il corso dicendo, insegnavo filosofia allora, dicendo io ho soltanto due regole, due regole deontologiche, due comandamenti. Il primo è questo, sono qui perché io so e voi no. Perché se no è inutile che mi paghiate e che veniate qua. Vi leggete i libri, no? Quindi. secondo comandamento, quando voi non capite qualcosa, sono io che spiego male. Alzate la mano, me lo chiedete, lo spiego anche dieci volte finché non trovo il modo per spiegartelo in maniera che capisci. E questo è quanto. Era un modo un po' provocatore ma per suggerire, capito? Un rapporto che a me sembrava sano. Cioè, se non capisci è colpa mia perché io dovrei essere esperto, devo sapere come farti capire e se no non ti posso insegnare lo strumento. Ma nello stesso tempo accettiamo questa simmetria che è benefica perché io sono seriamente intenzionato a guadagnarmi seriamente il mio lavoro offrendoti qualcosa che tu da solo non potresti trovare che è la differenza della scuola reale, no? Del rapporto reale. Quando io trovavo un professore che mi leggeva il libro mi annoiavo e avrei voluto stare a casa. La scuola deve avere un valore aggiunto. Quelle cose cioè che non si possono capire se non te le spiego a voce con gli occhi con la postura col fisico capisci? Col corpo oltre che con la mente. Questa è la sua differenza. Se non riempi quella casella lì ti limiti a leggere col naso nei tuoi appunti mi leggo il libro a casa. Ma c'è all'altro estremo un'altra battuta e poi praticamente l'introduzione abbiamo inquadrato il tema e vi dirò una prima riflessione su qual è la forma che prende oggi questa confusione tra gli aspetti interessanti e validi dell'io e gli aspetti invece pericolosi e rischiosi. L'altra battuta riguarda proprio la psichiatria. C'è un manuale che è come la Bibbia della psichiatria DSM che è giunto alla stessa alla quinta edizione è un po' un manuale dei disturbi delle patologie del dominio psichiatrico. Da questo manuale nell'ultima versione che è un po' come la Bibbia il prontuario la garzantina dello psichiatra insomma quindi utilissimo da questo manuale è scomparsa c'era sempre stata la voce narcisismo e la cosa ti mette allerta non era una patologia è sempre stata una patologia ma adesso non lo è più e io lo capisco perché l'hanno fatto hanno guardato le loro schede e hanno visto che la descrizione del narcisismo corrispondeva molto da vicino all'attore sociale e razionale che oggi è incaricato di realizzare se stesso nella competizione vincendo tutti i suoi avversari e avendo come obiettivo quest'unico scopo realizzare se stesso allora hanno guardato hanno detto ma questo qui è l'attore sociale di oggi è quello che incoraggiamo i giovani ad essere a contare su se stessi sulle proprie forze sulle proprie energie a non farsi condizionare da nessuno dal giudizio di nessuno dal rapporto con nessuno e ad avere appunto come obiettivo principale quello di realizzare se stessi e nessuno può dire niente perché se tu cerchi di realizzare te stesso chi può dire qualcosa ma realizzare te stesso vuol dire appunto realizzarsi nei limiti della legalità ma ad ogni costo cioè concentrarsi psichicamente sulla ottimizzazione di sé allora mi sai dire tu quando raggiungi questo obiettivo la prima trappola sapresti indicare quando sei ottimizzato quando un io è ottimizzato mai quando è ottimizzato mai ecco qual è la forma dunque questa è la difficoltà nella quale ci troviamo no? abbiamo la sensazione che appunto si va formando un monoteismo dell'io cioè monoteismo che vuol dire uscire dal monoteismo dell'io dice il mio libro non vuol dire uscire dall'io eh uscire nel senso della relazione sì ma non non vuol dire chiudere la partita affondarlo uscire dal monoteismo dell'io che è un'altra roba cioè dall'autoreferenzialità no? dall'idea appunto che diciamo la coltivazione di sé è in sé stessa il valore supremo al quale possiamo dedicarci forse anche il dovere più alto ora nella situazione della evoluzione se guardiamo all'evoluzione culturale di questo concetto che nasce grosso modo nel medioevo prima del medioevo si usa io ovviamente si ha una percezione no? dell'io come sé ma non è una categoria come adesso invece lo è per noi capito? non è una struttura non è un oggetto definito non è il valore della singolarità al quale noi pensiamo quando parliamo dell'io della dignità dell'io della singola persona questa roba tutti la mettono nella nostra quindi non è una cosa confessionale perché è di dominio comune questa cosa è certamente dovuta al passaggio del cristianesimo il quale introduce appunto il carattere assoluto del singolo interlocutore di fronte a Dio quindi vuol dire più alto di così non si può mirare di fronte a Dio ogni singolo è responsabile appunto di se stesso che vuol dire firmare la dignità massima dell'io singolare e farlo in rapporto all'umanità non al papa al re all'imperatore come prima succedeva a quello di nobili Khazad all'eroe omerico quelli sì sono singolarità che sono degne di rispetto e di stima perché emergono no chiunque chiunque è in questa condizione di essere una singolarità responsabile di sé e quindi è lì che quando prende forma una visione un po' organica come appunto avviene nel medioevo sia del cristianesimo e insieme con esso dell'uomo della società dell'agire della moralità l'epoca delle summe quando si forma la nostra enciclopedia prima delle enciclopedie di D'Alembert sono venute le summe teologiche che facevano lo stesso lavoro davano una sistemata alla comprensione dell'epoca ecco nel frattempo e naturalmente in questa evoluzione una volta acquisita la singolarità insieme col cesto della frutta buona si è infilato anche qualche frutto cattivo qual è la frutta buona? la frutta buona è appunto la dignità il rispetto di ogni singola persona il diritto alla cura di sé il diritto ad avere delle proprie aspirazioni il diritto ad essere libero e padrone del proprio corpo non solo della propria anima l'abeas corpus è una forma di rispetto che tutto sommato continua ad essere nonostante tutte le trasgressioni ad essere considerata fondamentale è un segno in sé positivo vale anche per il delinquente vale anche per il rapinatore ecco si è inserito qualche frutto bacato forse anche avvelenato e questo frutto bacato che adesso ci ritroviamo allora non ce ne siamo accorti abbiamo inseguito questa idea e ci sembrava di svilupparla sempre più a un certo punto ci siamo accorti che essa incoraggiava l'egoismo incoraggiava la competizione ostile incoraggiava il non rispetto degli altri e chi mi dice a me che cosa devo fare nessuno può dirmi che cosa devo fare tutte queste cose allora a un certo punto ci siamo trovati come di fronte a un doppio legame e lì ci siamo accorti che c'era qualcosa prima continuavamo a usare il vecchio lessico la vecchia lingua e quindi dicevamo non bisogna essere egoisti bisogna essere caritatevoli rispettosi e ci salvavamo ma intanto l'io continuava ad andare da questa parte che in realtà è quello che conta di più io il primo segnale credo di averlo colto 30 o 40 anni fa quando ho sentito anche degli ecclesiastici dire tranquillamente in fondo lo dice anche Gesù amerai il prossimo tuo come te stesso quindi prima bisogna imparare ad amare se stessi così dopo si è capace di amare il prossimo non sono caduto dalla sedia perché allora ero giovane quindi abbastanza tonico ma ho alzato gli occhi al cielo ho detto signore è finita se anche le suore dicono sta roba ai ragazzi siamo morti ti pare che si può fissare un punto nel quale tu finalmente sei riuscito a voler bene a te stesso abbastanza in modo così da passare al prossimo ma non arriva mai si può sempre migliorare nella cura di sé giusto? ecco allora aspetta un momento dopo quando sei vecchietto ti mancano le forze dice cosa vuoi da me e tanti saluti allora ci siamo accordi però l'evento che ci ha dato un po' una scossa che ci dà un po' una scossa è appunto il formarsi di un doppio legame cioè ha incominciato a intorcidiarsi la lingua un doppio legame che cos'è un doppio legame? il doppio legame è una figura psichiatrica di quelle situazioni appunto psichiche ingovernabili che producono un'angoscia insuperabile quando si presentano due vincoli in contrasto tra di loro ma in una posizione tale che se tu cerchi di sciogliersi da uno si stringe quell'altro e quindi sei in trappola un tipico modello di doppio legame è una frase che spesso si dice la sentiamo nei film ma forse si dice anche nella realtà ma ci fa capire il concetto ebbene io ti dico se mi ami veramente non amarmi più e cosa devo fare adesso come faccio amarti veramente senza amarti però di fronte a questa richiesta chiunque è come paralizzato no? è come paralizzato perché si sente affibbiare un doppio comandamento le cui metà sono contraddittorie perché mi si chiede di fare questo per amore non basta abbiamo finito non c'è più niente tra noi che il legame continui nella sua contraddizione in contraddizione con se stesso allora come appare nella problematica dell'io questo doppio legame cioè questa specie di infarto della psiche che si trova costretta ad obbedire a due comandamenti contrari beh si forma in questo modo vi faccio degli esempi che corrispondono alla rappresentazione pubblica ormai non soltanto alle teorie filosofiche ecco perché mi interessa portarvi su un terreno di esperienza comune dove la filosofia poi la teologia può aiutare a comprendere ma non bisogna perdere di vista la realtà non ci interessa capire la realtà allora una prima forma in cui appare questo legame no tra lo sviluppo dell'io e la mortificazione dell'io vogliate fate bene a voi stessi ottimizzate le vostre prestazioni decidete da voi qual è l'oggetto del vostro desiderio e come raggiungerlo e chi te lo dice te lo dice l'esperto che ti dice io sono qui per questo se segui la dieta ce la potrei fare se invece vuoi fare di testa tua allora questo qui mi raccomanda di essere libero di decidere come prendermi cura di sé ma nello stesso tempo mi dice che per poter realizzare questa libertà devo eseguire perfettamente le prescrizioni che l'esperto lo scienziato mi darà e se sgarro peggio per me accidenti un bel doppio legame di fatti abbiamo incominciato a avere qualche sintomo la nostra società è una società nella quale magari non lucidamente ma lo sentite che c'è un po' di scricchiolio nei confronti del rapporto con gli esperti che sono amati e odiati l'abbiamo visto nella pandemia lo vediamo nella politica nell'economia sono amati e odiati li cerchiamo e nello stesso tempo appunto cerchiamo di resistere alla prepotenza per così dire con la quale si presentano gestori della nostra vita della nostra cura dei nostri desideri delle nostre aspirazioni eh incomincia a fiare e questo non lo chiamiamo ma vabbè il compito della filosofia è cercare di chiarire le cose se è onesta ma appunto non lo chiamiamo così ma è un doppio legame no? difatti adesso è diventata una forma pubblica e vuol dire che l'io ecco qui non è in grado di uscirne da solo e incomincia a patire questa situazione no? diventa aggressivo un po' nervoso certo perché è una situazione contradditore che anche confusamente lo deprime devo realizzare me stesso senza ascoltare nessuno e dopo lo stesso mi dice devi ascoltarmi per filo e per segno perché se no non realizzerai mai te stesso mi vengono anche i cinque minuti eh ma siccome non ho le parole nessuno me lo spiega e nessuno lo spiega ancora eh siamo tutti nervosi siamo tutti frustrati siamo tutti depressi siamo tutti aggressivi non sappiamo con chi prendercela una seconda forma di doppio legame che viene emerge sempre al crocevia no? di questa di questa rotta che ha preso la cura dell'io come forma assoluta no? come monoteismo come oggetto di adorazione lottate per la vostra libertà lottate incondizionatamente non c'è un valore più alto lottate contro il potere contro ogni potere anche quello legittimo perché anche lui quello ti frega abbiamo imparato a sospettare no? anche lui dicono i rivoluzionari che vogliono fare del bene al nostro io no? che ci raccomandano di non essere conformisti di non lasciare ad altri l'iniziativa nessuna delega partecipazione tutte cose nobili sono le cose dell'umanesimo del settecento e dell'ottocento eh? nostra eredità la politica era fatta di questi valori qua quindi è un linguaggio che viene ancora parlato quando ci vogliono incitare a realizzare una libertà libera appunto da legami non vincolata non condizionata ma nello stesso momento lo scienziato razionale che ormai studia la biologia dei comportamenti e guarda il neuroimaging e vede le lucine che si accendono e calcola il passaggio di energia elettrica quello invece ci spiega che se vogliamo essere veramente razionali dobbiamo rassegnarci ad essere condizionati fino all'ultima cellula siamo un programma che fondamentalmente si esegue da solo sono i nostri geni che fanno il lavoro e sono le nostre cellule il nostro sistema nervoso eccetera che lo eseguono questo è quanto quindi se volete essere veramente attori razionali del vostro destino cercate di spiare quello che loro si apprestano a fare di voi quello che il vostro cervello il vostro sistema nervoso il vostro bios si appresta a fare di voi ragazzi c'è una bella differenza è come fare insieme le due cose a cercare la libertà come scioglimento da ogni vincolo precostituito in modo che la libertà abbia la sua fonte autentica genuina cioè me stesso quello che io voglio quello che desidero quello che intendo i miei obiettivi e come si fa a dire nello stesso tempo che questa figura della libertà è un rivestimento psicologico che noi diamo ad un'operazione che nella realtà ha tutta un'altra base terzo ed ultimo modo di apparire appunto di questa contraddizione che ci strema voi lo capite che la stabilità psichica di un soggetto come il nostro questa società sottoposto a questa a questa doppia pressione essere liberi partecipare porsi degli obiettivi lo sforzo della volontà l'impegno per costruire la libertà e nello stesso tempo dover inseguire un organismo appunto che deve essere venerato come il vero responsabile della nostra vita della sua durata della sua qualità delle sue relazioni non è così semplice anche qui siccome nessuno ci dà categorie per inquadrare questo doppio legame lo pattiamo soprattutto non sappiamo come rivolgerci però ormai siamo abituati appena c'è un pericolo corriamo dal medico appena lo scompatto lo pericolo ricominciamo la recita di noi cittadini responsabili che decidono da soli e non mi dite cosa devo fare eccetera ecco e il potere ci frega sempre è l'inganno economico l'inganno tecnocratico eccetera dopo ritorno al pericolo tutti ricorriamo ancora e cerchiamo di capire cosa dicono i miei geni ce la posso fare terza ed ultima figura di questo doppio legame è forse la più recente quella nella quale ci stiamo dibattendo adesso da un lato l'impetuoso sviluppo di una vera e propria clinicizzazione delle differenze le differenze umane sono essenzialmente un problema clinico non soltanto l'handicap ma anche la differenza sessuale per esempio ma anche le differenze di comportamento una volta la mamma diceva il bambino è un po' vivace adesso ha imparato a dire è ipercinetico e corre dello specialista si muove troppo così magari prende non qui da noi ma in altri paesi lo fanno prende una pillolina ritorna è catatonico e lo riporta perché dice scusi adesso non si muove più ecco clinicizzazione delle differenze cioè le differenze vengono inquadrate come un tema di pura di regolazione e quindi a disposizione dell'io clinicamente quindi tecnologicamente clinicamente in senso lato tecnicamente si può venire a capo di tutte le differenze dei loro problemi anche quelle che sembravano differenze di base possono essere scelte possono essere adattate possono essere aggiustate piano piano cresciamo e anche qui in un primo momento ci sembra anche una cosa a dice adesso con i progressi che facciamo possiamo intervenire e aggiustare regolare anche per tempo anche precocemente ma insieme con questa clinicizzazione delle differenze che dunque sembrerebbe dare un'importanza all'io l'io è sano sempre sano e quindi adesso è nella facoltà di decidere cosa fare delle sue differenze quindi è un'esaltazione dell'io della personalità adesso puoi scegliere cose che prima non potevi scegliere no? ma insieme con questa va crescendo ecco il doppio legame una specie di normalizzazione dell'irregolarità non è che ci sono buoni e cattivi siamo tutti buoni e cattivi non è che ci sono ragazzi normali e ragazzi anormali siamo tutti mediamente anormali allora tu capisci che in termini di retorica appunto come ho fatto gli esempi precedenti la cosa ha un suo lato carino ripeto siccome nessuno ci insegna un linguaggio io stasera lancio agli intellettuali anche questo appello cioè capito alla gente nessuno insegna il linguaggio per governare questa faccenda e quindi questo doppio legame dell'io lo patisce dibattendosi divincolandosi senza sapere esattamente come fare perché appunto gli si confondono i linguaggi il linguaggio della cura di sé si confonda con quello delle patologie del sé ecco questa erosione che ci invita a sospettare normale cos'è normale è chiaro che è un attimo e si scarica subito sulla norma che per definizione ha a che fare con sta roba no? come quando la mamma dice normalmente non si fa norma e quindi quello che quelli che una volta erano sono i presidi diciamo della normalità sufficientemente buona sufficientemente solida sufficientemente condivisa da poter fronteggiare le eccezioni perché il problema non è condannare le eccezioni il problema è essere in grado di fronteggiarle no? ma se non c'è più norma non ci sono più eccezioni e non si hanno più presidi né per governare la norma né per governare le eccezioni avevamo storicamente accumulato tre forme di presidio che ci consentivano di identificare una certa normalità dell'io che quindi poteva fronteggiare e sostenere le eccezioni una certa normalità dell'io è in grado di prendersi cura del bambino che non ce la fa ecco se invece siamo tutti indicappati ognuno pensa per sé e l'io ce l'ha fatta ancora il monoteismo dell'io ce l'ha fatta ancora una volta capisci? tanto siamo tutti indicappati per me per me lui è come tutti gli altri lo capisco la retorica è molto etica è molto carina ma ciò che stai dicendo è un'assurdità che lo danneggia lui ha bisogno di essere percepito nei limiti inconsueti delle sue possibilità in maniera tale appunto che la normalità sia in grado di accogliere anche lui di sostenerlo senza costringerlo a diventare un altro capisci? ecco questi presidi erano la religione nell'ordine l'etica e la politica variamente articolate tra i loro adesso questi presidi della diciamo della normalità dell'io cioè questi contraforti a cui l'io medio sociale poteva ispirarsi per dire per raffigurarsi diciamo una posizione decente una posizione condivisibile dei singoli io che li rendeva capace appunto di prendersi le loro responsabilità senza pretendere chissà che cosa di avere delle relazioni mediamente pacifiche senza pretendere di evitare ogni aggressività eccetera eccetera e questi presidi adesso sono sospettati e non è colpa di nessuno è l'evoluzione storica però bisogna saperlo sono sospettati di essere un freno non un presidio invece di essere un presidio per la condivisione dell'io cioè dell'essere persona e senza condivisione siamo tutti dei poveri orfanelli invece di essere presidi sono visti come freni questo vuol dire anche un po' segare l'albero sul quale si appollaiati ecco che cosa dunque può essere introdotto in questo tipo appunto di evoluzione che ho cercato di tratteggiarvi cercando di farvi cogliere appunto il carattere sofisticato di questa partita ecco perché le vecchie prediche non bastano più capisci le vecchie prediche contro l'egoismo il lusso la ricchezza non bastano più per questo perché molte parti di queste cose sono diventate aspirazioni comuni tra un po' anche i cinesi vorranno tutti la lavatrice e la televisione e cosa facciamo li colpevolizziamo per questo capisci ecco questa è la difficoltà e qui abbiamo bisogno parole oneste qui c'è una responsabilità dell'intellettuale e c'è un tradimento dei chierici cioè degli intellettuali che si dedicano invece all'ozioso e pericoloso gioco della decostruzione allora osservazioni conclusive dunque c'è bisogno di riflettere questo voi dovete essere grati a chi organizza questo questo genere di di incontri che sono gli eroi del nostro tempo non gli organizza più nessuno una volta nelle case di ringhiera si faceva più filosofia che nelle università adesso non ci sono più adesso sono tutti chiusi dentro non ne capisci ecco è così facciamo fatica a trovare le parole a dipanare le parole no? allora vi dico due riflessioni e chiudiamo con questo con questo diciamo tentativo di indicare comunque un percorso propositivo la prima osservazione positiva nonostante il contenuto che sto per dirvi è questa non ci sarà un transito indolore a questa chiarificazione del posto giusto dell'io che non vuole mortificare i progressi e le conquiste fatte di libertà di individualità di scelta capito di dignità ecco perché questo è qui è come operare capisci sul cervello no? se sbagli un attimo invece del tumore becchi la venina becchi la determinazione nervosa e addio questo non parla più quindi consapevoli di questo però sarà traumatico e credo che il trauma quindi diciamo anche questo appello anche noi sacerdoti qualche volta certo bisogna sempre incoraggiare è la base però bisogna anche non essere troppo idealisti e troppo retorici non incoraggiare così una specie di chiamata all'impegno generale l'impegno ragazzi qua già tirare sera è diventato difficile padre e cosa devo fare ancora devi impegnarti ma io ho anche quattro creature da tirar su e che devo fare qua non si prova al lavoro quindi insomma non esagerare nella retorica sarebbe una bella cosa il trauma si aiuterà il trauma aiuta anche l'organismo a a riaversi e si produrrà quando non reggeremo più proprio fisicamente e psichicamente come dire il governo le protesi meccaniche della nostra vita sociale che sono le macchine la burocrazia e l'altro sentimento che ci aiuterà è l'avvilimento la sensazione di inutilità che a un certo punto diventerà voi sapete nostalgia è una malattia inventata negli anni 40 da uno che da un dottore che aveva scoperto che i soldati svizzeri che di solito erano mercenari a pagamento per qualche potentato lontani dalla svizzera dopo un po' se non combattevano si ammalavano cioè cadevano in una depressione incredibile a differenza degli altri e non era lo stress post-traumatico del combattimento dei bombardamenti era proprio la lontananza della casa senza le loro valli non ce la facevano più a noi ci dovrà succedere questa cosa perché non succederà tanto tardi io non la vedrò ma voi sì voi siete ragazzi e ragazze di belle speranze ce la potete fare perché nel frattempo la totale mancanza di regolazione dell'elemento dionisiaco della vita cioè la volontà di potenza dell'io ecco questo è no ricomincerà ad essere omicida abbiamo già delle avvisaglie non si accontenterà della competizione i soggetti più deboli tra noi passeranno immediatamente alle vie di fatta perché il dionisiaco è senza presidi nella nostra cultura il dionisiaco è una grande energia è una grande forza è l'eros forza vitale per l'amor di Dio ma senza regolazione è una forza dissipativa no esplosiva distruttiva e autodistruttiva seconda osservazione possiamo però anticipare l'evento quindi noi siamo in ritardo anche il cristianesimo è un po' responsabile di questo ritardo no ha pensato che forse ce la facevamo a continuare con i vecchi riti dell'ottocento i vecchi valori eccetera insomma si è addormentato un po' adesso è tardi è tardi per la religione è tardi per la politica quindi non possiamo noi provocare questo evento chiarificatore eh e quindi non ascolterei troppo ascolterei con molta tenerezza ma anche con un sorriso tutte le giudiziose raccomandazioni che ci fanno a stare attenti i nostri figli eccetera però possiamo anticipare l'evento in modo che quando arriva ne alleggeriamo l'impatto eh più siamo stati capaci di anticipare no di allenarci anticipare l'evento più l'impatto sarà meno devastante che se aspettiamo che ci casa solo addosso farà tanto male se invece ci mettiamo in allerta per per anticiparlo per i nostri figli e nipoti più che per noi allora potrà non essere così devastante il passaggio traumatico che sta per arrivare il campo di battaglia è la città come sapete più di metà della popolazione di questo pianeta ormai è radunata nelle città e questo accorpamento voi avete la fortuna di custodire ancora tradizione a misura d'uomo così potete capire che cosa significa la nostalgia l'attaccamento alle valli che non è l'attaccamento al paesaggio è l'attaccamento appunto a una forma dell'io che ancora non è in conflitto in competizione con noi è un'eredità che va consumandosi ma se ne può fare tesoro per la stagione che verrà capisci ecco la città va disseminata io dico ho usato l'espressione niciana dionisiaco va disseminata di tracce dell'Apollineo cioè bisogna infilzarla di eleganza e qui voi siete una cosa io dico la città moderna manca sempre più di punteggiatura è ossessiva non c'è punteggiatura e quando non c'è punteggiatura come l'Ulisse di Joyce quando non c'è punteggiatura non riesce a pronunciare dopo un po' ti si strozza la lingua e qua tutti vanno è alveare non si ferma niente io adoro quei ragazzi che ogni tanto entrano in questi grandi centri commerciali prima un violoncello poi la viola poi il violino poi il fagotto poi il flauto e a un certo punto è la nona di Beethoven e tutti i rincretiniti dello shopping perché siamo così quando siamo lì non sappiamo neanche dove guardare col sacchetto in mano improvvisamente si fermano e non possono negare che c'è una felicità in questa comparsa dell'Apollineo nel luogo del Dionisiaco a raffa raffa magna magna capite ecco che quasi è come una scoperta non sembrava ecco noi abbiamo bisogno di inventarci una punteggiatura della città cioè costringere le macchine a fare un giro un po' più lungo che ad ogni svolta ci sia qualcosa che ci incanta le città sono ostili ai vecchi e ai bambini li invitano ad autosecondire sequestrarsi fanno dei luoghi apposta come dei luoghi apposta sei pazzo siamo matti i bambini e i vecchi sono il totale della rappresentazione della vita che è questa è la bellezza dell'averli intorno se no rincretiniamo e ci immaginiamo che la vita è fatta di adolescenti come siamo noi anche a 40 anni quindi speriamo magari voi siete dei politici qualche politico che dice adesso fanno le case giustamente ti obbligano a avere il box per la macchina almeno per non lasciarla proprio tutto fuori compri un appartamento e ci deve essere il box qualcuno dice e ci devono essere le piante gli architetti hanno delle astuzie per fregarti ed evitare di mettere le piante che non hai l'idea fa parte del loro mestiere sono carini in questo ce n'è uno mio amico molto intelligente che si è inventato le piante sul grattacielo così te le curi te e sotto rimane libero per le macchine mi ha fregato hai capito? va bene chapeau meglio che niente meglio che niente punteggiatura punteggiatura vuol dire speriamo che tra un po' la politica incomincia a obbligare quelli che hanno un locale pubblico di una certa proporzione sempre commisurata alle risorse alle possibilità ad avere spazi per gli anziani per i bambini come adesso c'è anche nelle chiese molte chiese dove c'è il problema hanno il vetro là in fondo in modo che così non si sentono gli schiamazzi però le mamme possono almeno assistere alla messa i bambini non dà fastidio intanto giocano con le loro cianfusaglie senza posti per i vecchi e per i bambini non si può aprire un locale pubblico questo già ti faccio un esempio per dire capito rozzo nel senso un esempio filosofico ma capisci lo spirito della cosa c'è qualcosa che ridia punteggiatura e che sia abbastanza lieve abbastanza elegante da far subito capire che non siamo qua soltanto per far circolare merci e acquistare beni che la città non è semplicemente questa incominciare una garbata critica della forma della casa che ha cura di neutralizzare anche il più piccolo indizio della presenza di esseri umani il grattacielo tutto acciaio e cristallo è un prodigio perché riesce veramente a non lasciare traccia non dà nessun indizio degli umani non li vedi non li senti passano da sotto i vetri sono affumicati capisci ma neanche un termitaio è così perfetto il termitaio si vede sempre qualcuno che va avanti indietro no quelli lì niente sono lì ti stanno addosso e ti comunicano questo messaggio per noi l'essere umano è una variabile dipendente dallo spazio cosmico allo spazio dei cristalli allo spazio dei pianeti e delle comete ecco bisogna interrompere questa grammatica capito chiamo Apollinio perché devono avere questa e quindi più che prediche credo che dobbiamo a poco a poco imparare a concentrarci e ce la possiamo fare non so le parrocchie cosa sono il mondo a fare poverine in questo momento cosa devono fare se non fanno questo la scuola cosa fa se non fa questo il teatro cosa fa se non fa questo capisci se non crea delle punteggiature invece di chiudersi dentro nei suoi loculi deve creare punteggiature nella città non è così impossibile a pensarci bene ma questo sai dopo un po' farebbe effetto no? quell'effetto di disincantamento cioè ma allora siamo umani anche nella città si può essere umani anche nella città e allora lì viene fuori lo spazio per il messaggio che io credo potrebbe avere anche un certo interesse pedagogico messaggio che suggerisce guarda noi la stiamo disimparando ma c'è una grande felicità a far nascere qualcosa e a far nascere qualcosa per qualcun altro che stiamo perdendo noi la generazione ci riempie di potenza di noi è un segno della potenza dell'io produrre è un segno della potenza dell'io invece se tu ti domandi qual è la destinazione della potenza Lacan che è un grande psicanalista ha detto una cosa sacrosanta non c'è realizzazione del desiderio non esiste e chi cerca di inseguirla affogherà e ben gli sta c'è soltanto il modo di usarlo se è per riempire l'ego la partita rischia ciò che anche come cultura abbiamo rischiato se invece è per far nascere qualcosa per qualcuno allora potessi scoprire di essere molto più intelligente molto più sensibile molto più creativo molto più interessante di quello che pensi di essere perché sai per nutrire l'io non è mai abbastanza non c'è mai abbastanza accumulo di beni che lo possa proprio soddisfare infinitamente invece se cominci a pensare nell'altra prospettiva di diventare molto intrigante molto figo come dicono i ragazzi nel momento in cui inventi una poesia una sinfonia anche un bambino un passaggio della nonna di Beethoven al supermercato capisci un bottone la bambina che mi dà un bottone il suo tesoro e noi questo lascia che le neuroscienze dicano che sono riflessi nel nostro apparato sinaptico va bene molto bene bravo e gli fai la cara sei contento ecco hai detto la tua bravo sei contento bene ti sei guadagnato il tuo lavoro ma noi siamo umani e quindi umano e anche tutto il resto allora in quel momento ecco si riformerebbe perché anticipiamo il trauma riscoprendo una forma di felicità che sta scomparendo la felicità di mettere al mondo qualcosa o qualcuno che renda felice qualcun altro e godersi la sua sorpresa no incantati dire far sorridere un bambino autistico far scrivere un bambino che non parla ce l'ho fatta e così hai imparato anche per quale ragione hai fatto così tanta fatica studiare le lingue adesso finalmente lo sai se impariamo questa felicità di nuovo ce la possiamo fare grazie posso avere un goccino d'acqua grazie brava adesso c'è le domande si benissimo come volete voi grazie si si guida tu ringraziamo Monsignor ringraziamo Monsignor Sequeri per questa bellissima relazione se qualcuno volesse magari porre delle domande sempre con la gentilezza della sintesi grazie buonasera penso la sintesi è una forma di eleganza ed educazione prima domanda se lei non ritiene scusa dammi un nome tanto per appendere Edgardo 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 così per appendere la domanda prima domanda se lei ritiene che il cosiddetto problema del riscaldamento globale possa essere un modo per fermare diciamo la deriva del meccanicismo contemporaneo del materialismo io credo di no però potrebbe essere una forma di cambiamento due se lei nella sua analisi dell'io ritiene che l'io donna l'io uomo siano accumulati in questa forma di diciamo materialismo io penso che entrambi stanno perdendo le loro caratteristiche migliori per arrivare a un io ibrido neutro che è una forma di doppio legame secondo me grazie belle domande la mamma la mamma così la mamma di Edgardo non ho capito la mamma di Edgardo ah sì mi chiamo Anna bene lei ha detto che è rimasto molto sorpreso o comunque ha cominciato a così a essere avere dei dubbi avere dei dubbi quando ha sentito del fatto che dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi più o meno siamo più o meno della stessa età e nel 68 per me è cominciato secondo me una delle più grandi disgrazie io c'ero ecco appunto perché una frase che invece mi ha molto sorpreso e che non condividevo e forse questo tempo qui è anche una reazione a quel periodo era il fatto che siamo tutti uguali io non condivido e non condivido da ragazza perché non il fatto che come persona siamo uguali nei diritti e nei doveri ma per il fatto che siamo diversi e questa è una ricchezza e quindi questa frase qui è stata per me una importante dal punto di vista negativo era uno di quei frutti che possono sembrare belli ma che forse poi portano il veleno ecco e l'altra ancora peggio è quella di uno vale uno quello per me è stato proprio uno dei momenti peggiori anche perché più di 30 milioni di italiani li hanno votati ecco e un'altra cosa volevo dire del non si dovrebbe riprendere la parola dovere che è qua parita non dico come narcisismo ma quasi grazie raccogliamo raccogliamo qualche devo rispondere subito come volete voi se c'è pronta qualcuna Don Pierangelo se vuoi rispondere poi ti faccio la domanda dai ecco te non ti ricorderai di me chi sei tu è Raffaele è stato un tuo studente Riccardo una colta teologica ma adesso sono diventato vecchio ti faccio la mia domanda allora innanzitutto ti ringrazio per questa ritrascrizione di un archetipo fondamentalmente che sta alla base del racconto biblico se vuoi il fatto che ci sia un suggeritore che incoraggia la saturazione del desiderio attraverso certe forme sai la forma del prendi e mangiano del riempiti la pancia che è quell'idea sai sulla quale noi convergiamo istintivamente no che è stata poi disinnescata da Cristo che ha incoraggiato una forma della saturazione che passa per la perdita e per la donazione radicale ora ora vengo all'avvilimento che tu hai posto come sentimento decisivo e fondamentale no che è un po' sai il punto di partenza di questi nostri amici di Zaccheo di Bartimeo dell'emorroizza no sono figure avvilite le quali si riscattano da questo avvilimento attraverso un passaggio strategico che secondo me la teologia non ha adeguatamente evidenziato e bisognerebbe mettere forse più in luce il ruolo decisivo che la testimonianza viene ad avere nel processo di riscatto di Bartimeo di Zaccheo di quell'altro Bartimeo grida perché ha sentito parlare di quel signore lì che può restituire la vista ai ciechi Zaccheo si arrampica perché ha sentito qualcuno che gli ha raccontato che quel signore lì è in grado di fare determinate cose allora io mi chiedo sono molto d'accordo sul tema dell'Apollino e della necessità anche per noi docenti di portare l'Apollino in mezzo ai ragazzi e funziona molto bene ma io da un punto di vista ecclesiale mi chiedo ma il ruolo della testimonianza che noi non sentiamo mai raccontare o sentiamo molto poco raccontare di quello che quel signore va in giro facendo nel corso della storia in modo tale da consentire anche ad altri che in questo momento sono in condizione di avvilimento di poter gridare a loro volta come dici tu quando uno trova la porta aperta che uno entra dentro di poter gridare in quel momento figlio di Davide abbi pietà di me ecco la mia domanda è questa allora perché abbiamo perso o ha così poco spazio all'interno della Chiesa la dimensione testimoniale che ciò che consente di innescare il processo di riscatto dalla condizione di avvilimento che patisce l'uomo contemporaneo abbiamo bisogno di testimoni anche maestri testimoni per consentire appunto l'innescarsi di quel processo virtuoso che porta poi quello a dare via tutti i suoi beni per ripagare il male che ha fatto prima grazie queste sono domande da farci la notte però eh ragazzi che facciamo cominciamo sì va bene cercherò di stringere un po' le domande sono tutte veramente molto pertinenti e molto interessanti per non solo per inquadrare ma anche per allargare appunto la materia quindi è un buon lavoro beh allora sì anch'io non penso che il riscaldamento globale sia una questione cioè io capisco quelli che si lamentano ma eh ho l'impressione che il riscaldamento globale ci lascia molto freddi e perché ci lascia molto freddi è perché abbiamo la sensazione che da un lato è come parlare di quando passerà la cometa di Alley e quindi l'inevitabile ecco c'è qualcosa di inevitabile e d'altra parte appunto l'idea che nel nostro interesse quello che è evitabile non si è evitato vale per una certa percentuale però non abbiamo i sintomi cioè noi capiamo che per quanto siano falsi i nostri politici e infingardi i nostri tecnocrati quando c'è il pericolo vero trottano cioè noi in questo momento abbiamo fatto una cosa che è come lo sbarco sulla luna che non ci era mai riuscita nel momento in cui questo virus ha minacciato l'intera collettività del pianeta invece che 30 anni ci abbiamo messo sei mesi a fare il vaccino perché? perché disponevamo di un campione che nessun medico della storia ha mai posseduto perché quando lo devi sperimentare su mille e fare tutte le prove passano dieci anni ma quando lo puoi sperimentare su dieci milioni in contemporanea gli anni diventano due è normale non è che hanno fatto le cose più superficialmente semplicemente hanno avuto condazioni straordinarie e di fatti l'hanno fatto lascia stare c'è il problema i soldi c'è il problema di giustizia politica sociale internazionale c'è ed è un'altra partita ma il concetto che io dico è questo ormai noi siamo una società nella quale diciamo possiamo gridare al lupo al lupo su facebook su queste robe qua insomma sui giocattolini dei ragazzi ma ormai siamo una società talmente integrata che se c'è un pericolo vero in cui affondiamo ci muoviamo per tempo invece non siamo sensibili ecco il controaltare anche io dico certo ci sono molte cose ragionevoli no naturalmente in questo discorso che dobbiamo stare attenti appunto non appunto mettere nella spazzatura qualunque cosa che a consumare a non riciclare tutto bene va bene è una specie di come dire di igiene non solo economica ma di ordine mentale abituarsi all'usa e getta poi si finisce per farlo anche con le persone non è sano ecco questo mentre invece interessante e critico secondo me è piuttosto l'altro sull'altro sull'altro versante cioè quello della qualità antropologica del degrado della qualità antropologica dell'io non siamo così svelti la storia non ci insegna niente le regressioni anche di civiltà e di culture molto avanzate fanno parte della storia voglio dire senza offesa per nessuno ci sono paesi che una volta erano imperi mondiali come l'Egitto e la Grecia nei quali ora i ragazzini chiedono l'elemosina come nei nostri paesi più poveri non è colpa di nessuno e naturalmente per l'amor di Dio però in questo invece le civiltà non sono così svelte come quando c'è il pericolo capito che si può materialmente fronteggiare ecco e quindi adesso avendo delle tecniche più alte speriamo che possiamo farlo qui invece sembra che il progresso tecnico non funzioni bisogna volerlo ogni volta perché se no comunque si torna indietro questa guerra la potevamo aspettarcela cioè una guerra della prima metà del novecento voglio dire dove bombardi le case ancora non so prima ancora che sia ravvilente è come priva di senso tu dici ma come ma come possiamo eppure ecco la regressione capisci è gli uomini che uccidono le donne il calcolo come dire il calcolo funzionale anche lui è diventato una funzione il calcolo funzionale cioè ci sono equazioni dell'economia voi lo sapete meglio di me che a freddo calcolano perdite umane non c'è scampo se volete avere l'acqua corrente tutti i giorni in quantità appunto non misurata qualcuno deve patire la sete o la fame o o non avere il tetto sulla testa guardate che è così eh e difatti lo sentite no ogni tanto dicono se tutti adoperassero l'acqua come l'adoperiamo noi il pianeta si prosciugherebbe no vuol dire una roba così no ecco questo io credo il la debolezza chiamiamola così 68 noi c'eravamo era anche certe volte in questi tempi di mortorio ti viene anche in mente che almeno ragazzi allora ci muovevamo cioè l'università era avventurosa ecco io dopo all'inizio degli anni 70 mi hanno nominato assistente della fuci alla statale perché non ci voleva andare nessuno naturalmente chi è che fa l'assistente della fuci alla statale ma io ero incosciente ho detto lo faccio io e facevo studiare i miei della fuci Habermas capisci che quelli là si sorprendevano dice come non studiate il catechismo no studiamo Habermas ah ho detto sì perché voi sapete solo il catechismo e questi qua parlano un'altra lingua io ve la insegno perché sennò sei lì come dei cretini e non sapete cosa dire capito ecco allora questo nonostante questo il buco c'è cioè l'idea che i presidi nei confronti i nostri tradizionali presidi nei confronti della violenza dispotica no prepotente della volontà di potenza erano dei trucchi dei trucchi borghesi delle 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 invenzioni appunto per tenerci sotto la testa per non farci avere rapporti sessuali per non farci godere la vita eccetera nasce lì difatti in un attimo lì quando nasce sai 68 figli dei fiori mettete i fiori nei vostri cannoni eccetera ha durato due o tre anni dopo sono arrivati quelli che sparavano davvero ma era scritto era scritto se tu indebolisci i presidi semplicemente quanto è modificarli no elaborarli all'altezza della civiltà che progredisce no della qualità appunto della persona della dinge un conto è considerarli appunto invece a priori come un sospetto no adesso anche gli ecclesiastici anche i monsignori hanno imparato a dire il cristianesimo non è un'ideologia mi fanno tenerezza perché con tutta la battaglia che hanno fatto contro il marxismo mi sorprendo che usino il concetto di ideologia nel senso marxiano e proprio così dicono il cristianesimo non è un insieme di idee alludendo quindi un'ideologia quindi una forma di potere ma monsignore ma te chi te l'ha insegnato che scuola hai fatto perché dici questa roba qua noi siamo un insieme di idee non c'è niente di indecente una fede sensata deve essere un insieme di idee la nostra non è un'abracadabra è una rivelazione rivelazione vuol dire Gesù non ha detto nulla ai suoi discepoli che essi non potessero intendere capisci e cosa dice non è una morale va bene non è una morale ma nello stesso tempo ti pare che possa sussistere un vangelo senza imperativo morale senza comandamento dell'amore del prossimo e questo non è non so quindi sono parole in libertà che sono nate lì capisci e adesso prima le dicevano i ragazzi adesso le dicono i monsignori così per inerzia io lo capisco perché gli sembra di avere un punto di vantaggio dice anche noi siamo contro l'ideologia contro la religione cattiva va bene di nuovo sai il mio schema la retorica la capisco e l'apprezzo anche però l'errore della teoria poi lo pagherai caro perché tu dici il cristianesimo non è un insieme di idee di verità strata eccetera una persona bellissimo questo tema dell'annuncio della persona io non ho capito che cosa significa ma mi sforzo di adeguarmi non capisco letteralmente cosa vuol dire non capisco letteralmente cosa vuol dire cosa devo fare andare ai park e dire Gesù è risorto non so devo fare così secondo te perché dopo comunque quando si viene alle corte insegniamo a questi ragazzi siate trasgressivi e abbracciate la fede quando hanno abbracciato la fede abbiamo un catechismo di 1500 pagine noi da piazzare come dicono a Roma che stai a dire non è meglio se glielo dici prima che noi siamo anche questo noi siamo anche un pensiero sì signore ce ne vantiamo anche perché il mondo è pieno di religioni abracadabra credere obbedire combattere la nostra non è bene meglio farlo sapere ecco quindi questo è secondo me il punto in cui si è creata appunto l'ambiguità e in quel momento certo siccome essere presidio regolatore vuol dire avere percezione delle differenze dei loro rapporti certo in quel momento anche ha incominciato a logorarsi il principio di sussidiarietà quello che ci impedisce di spingere alla retorica dell'uno vale uno retorica apprezzabile fino alla teoria del neutro dell'indistinto no? del nessuno e nessuno uno vale uno vuol dire nessuno e nessuno realmente nessuno intercambiabile intercambiabile non va bene questo non porta nessuna dignità all'uno capisci? e all'io quindi questo è effettivamente adesso noi ma anche noi diciamo sussidiarietà ma la nostra società che ne parla tanto di questo tema della sussidiarietà non ne ha quasi più nessuna non solo perché si combatte l'intermediazione ma proprio perché appunto come dire la relazione vantaggiosa delle differenze io so suonare tu sai fare poesie lei sa fare bambini lui sa fare capisci? la bellezza è questo è trovare appunto la connessione in maniera tale che diventino non uno vale uno ma che diventino ricchezze comuni c'è una decima anche dei carismi capisci? e cioè che sono vitali se una carismi sarebbe nome religioso cristiano delle doti quelle che diciamo doti attitudini potenzialità che uno ha eccetera benissimo allora abbiamo la sensazione che nella società come nella chiesa e la chiesa pagherà caro questo come già lo sta pagando la società nella chiesa come nella società la decima non sia più richiesta come dice Paolo quando uno ha un carisma deve subito indagare non soltanto sulla qualità che ha ricevuto ma sul 10% che deve versare per l'utilità comune perché la comunità se tutti poppano la comunità non avrà più niente ai bambini della chiesa ma quando faccio le chiesime io dico sentite voi diventerete grandi adesso e quando sarete grandi probabilmente andrete via da questa chiesa perché vi farete una famiglia avrete un lavoro eccetera vi dico solo una cosa prima di andare via lasciate qualcosa a questa comunità perché avete ricevuto molto lasciate qualcosa un fiore lasciate qualcosa per segnare il punto no? perché se non c'era istituzione tutto va perduto ecco questa mi sembra una cosa che diciamo non sappiamo neanche più come dire no? ci sembra tutto gratuito ma deve essere certo che deve essere gratuito non è il prezzo è il dono capisci che fa la differenza e questo non c'è più cioè una parte che è riservata alla comunità vuol dire che neanche i miei figli avranno diritto di consumare è una cosa bellissima questo anche per la società civile no? una cosa invece desti alla felicità di vedere che questa cosa ha contribuito alla felicità comune no? ecco non è di nessuno è per la comunità se non preleviamo noi abbiamo le tasse che non sappiamo dove vanno a finire ma dei carismi non preleviamo più niente se prelevassimo dai carismi anche quelli che cercano di fare i furbi con le tasse si dovrebbero dare una regolata capisci? perché adesso ce li impongono anche con la scusa che la comunità ha bisogno poi non sappiamo se invece nel villaggio molte cose approfittando dei carismi il pozzo l'arrosto il risotto ce lo facciamo da noi non ci possono dire ho bisogno di prelevarti perché la comunità ha bisogno di fare l'arrosto capisci? ce lo facciamo da noi gioia quindi quei soldi lì destinali meglio perché se no ogni due per tre arriva questa pubblicità tenerissima astruggente e a me devastante in cui qualcuno con voce pacata mi dice questo bambino morirà ma con tre euro tu puoi salvargli la vita bene io per fortuna non porto armi se no mi verrebbe la mano alla pistola guardate a che punto di indecenza siamo arrivati che per realizzare il principio di sussidiarietà non basta che quello lì abbia bisogno una medicina da tre soldi che dovrebbe già avere no non ce l'ha perché sono in attesa che io mi commuova e mi prenda la responsabilità di salvargli la vita oppure la colpa di non avergliela salvata ma secondo voi è civiltà questa roba quel bambino dovrebbe averla già avuta dopo puoi chiedermi i soldi che vuoi ma quel bambino deve averla già avuta come quando diciamo miglioriamo la qualità della scuola e dell'apprendimento i nostri ragazzi sono stufi non ricevono quasi più niente da questa scuola miserabile che abbiamo perché ha perso questo principio appunto della sussidiarietà e della passione per qualcosa che alimenta anche il benessere della collettività lo studio dei ragazzi alimenta il benessere della collettività capisci e non dovremmo sentire discorsi del tipo certo dovremmo bisogna reperire le risorse bisogna reperire le risorse per la scuola dei bambini ma i nostri genitori si sono svenati e si sono rotti la schiena per farci studiare a noi hai capito? si sono rotti la schiena per farci studiare a noi perché era fuori discussione che i soldi per far studiare il ragazzo si trovavano non è che dice se c'è le risorse capisci? e noi come società progredita e civile diciamo se c'è le risorse cioè a proposito a proposito di valori vitali la salvezza la cura della malattia del bambino come anche la sua istruzione e bisognerebbe pensarci di più invece di mangiare così tanti peluche mandare anche libri, quaderni e matite magari eh ecco per dire questi sono bisogni primari ormai nella nostra organizzazione di vita sono bisogni primari ecco questa è una battaglia culturale una battaglia politica ultima battuta sulla testimonianza velocissima allora guarda te la dico così perché tu sei del ramo ma anche voi siete bravi a decodificare dunque ai preti senza colpa loro poverini e forse non è colpa di nessuno ma questa è la situazione gli insegnano essenzialmente a fare cattolici sono addestrati a fare dei cattolici a testimoniare il Vangelo la fede a fare come Gesù che si prendeva anche la Samaritana e le diceva ti do l'acqua anche a te e vai felice non sono semplicemente allenati nei manuali di teologia queste figure Zaccheo che tu citavi non compaiono tra gli esempi della fede che piace a Gesù gli esempi della fede vengono presi tutti dagli apostoli dalle preghiere che dicono eccetera allora perché non c'è questa vitalità della testimonianza perché per fare i cattolici per fare un cattolico basta il catechismo per fare un cattolico non c'è bisogno della testimonianza è già qua la chiamerò esempio ma non è la testimonianza che intendi tu no? invece appunto per annunciare il Vangelo della salvezza cioè la testimonianza ebbè quello è destinato non è destinato a fare un cattolico la Samaritana non è diventata suora Zaccheo non è entrato in seminario e dice allora abbiamo fallito il colpo questo lo dici te perché tu sei addestrato ad avere questo obiettivo se non riesci a fare un cattolico ti sembra di non aver fatto niente e quindi devi limitarti al catechismo puoi solo insegnare il catechismo e cercare di insegnarlo anche a chi ormai ne ha perso le nozioni ma suscitare un credente suscitare una donna che dice a me Gesù mi dà questa roba ma lo sai chi sono io sì anche a te ecco questo non è una cosa che fa parte della normale formazione ecclesiastica ecco semplicemente quello che io penso a proposito della necessità che abbiamo noi dobbiamo ritornare a formare il ministero ecclesiastico come un ministero che non è specializzato a fare nei cattolici i cattolici sono semplicemente alcuni sono quelli che Gesù chiama come discepoli e Gesù fa la differenza sono Pietro Paolo Giovanni eccetera e poi tutti gli altri e imparare a passare il Vangelo a testimoniare il Vangelo agli altri con il linguaggio adatto che non può essere quello del catechismo semplicemente con l'esempio adatto che non può essere semplicemente quello della devozione che va in chiesa che pure capisci che deve avere come faceva Gesù ecco questa è un sapere una sapienza alla quale dobbiamo essere di nuovo addestrati quando lo saremo allora non avremo più bisogno di invocare appunto il vuoto della testimonianza ringraziamo Monsignor Sequeri per la generosità che ha impiegato nelle sue risposte una seconda conferenza diciamo così con molto piacere le dono questa bottiglia di Franciacorta con gli auguri come dico sempre di tanta felicità ringrazio nuovamente l'assessore Giacomelli ringrazio l'assessore Giacomelli la comunità montana ricordo che all'uscita trovate i libri del professore per chi volesse farsi autografare magari può accogliere l'occasione tra cui anche il volume che dà il titolo della serata di questa sera appunto la cruna dell'ego vi ricordo che il nostro festival appunto prosegue in questi due ultimi giorni domani a Lumezzane e poi domenica chiudiamo a Lograto buonanotte a tutti e a presto grazie